Sin dall'inizio tenta di spegnere i tuoi entusiasmi, non conosce le buone maniere, è davvero dispettosa. Ti segue sempre come un'ombra e cerca ogni scusa per buttarti giù. Poi una mattina ti svegli e decide di nasconderti la bellezza del mondo. È così dispettosa che a volte ti fa sembrare debole. Per questo molti alzano gli occhi al cielo quando la incontrano. Poi per un po' si dimentica di te, ma all'improvviso torna come un dispetto quando eri tu ad esserti dimenticata di lei. La sclerosi multipla è una malattia dispettosa. È ciclica e imprevedibile e appare agli occhi degli altri come semplici difficoltà quotidiane. Quindi dove l'accompagno? Quando la incontri, non alzare gli occhi al cielo. Aprile. La sclerosi alla sclerosi alla sclerosi. Grazie a tutti